Disney Pixar Toy Story 3 La Grande Fuga Andy sta per andare al college e ha deciso di portare con sé soltanto il cowboy Woody. Che fine faranno Buzz e gli altri suoi amici? Potresti regalarli all'asilo Sunnysite, dice la signora Davis al figlio, dandogli sacchi e scatoloni. I vecchi giocattoli non sanno che Andy vuole conservarli in soffitta e raggiungono l'alto della pappa di Andy. Meglio l'asilo della spazzatura, pensano tutti delusi. Woody vuole fermarli e salta anche lui sulla macchina. Quando giungono all'asilo, l'orso Lozzo accoglie i nuovi arrivati. Qui i bambini giocano con noi tutto il giorno, afferma sorridendo. Jesse, Buzz e gli altri giocattoli pensano di aver fatto la scelta giusta. Woody, invece, vuole tornare da Andy e va via da solo. I piccoli bambini dell'asilo, purtroppo, non sono certi ricomenti. Per loro, giocare significa distruggere. Anche Lozzo è pericoloso. Cancella la memoria di Buzz e imprigiona gli altri giocattoli nelle gabbie. Woody torna indietro per salvare i suoi amici. Fuggiranno insieme dall'asilo, lanciandosi nello scivolo della spazzatura e attraversando il cortile. Lozzo scopre il piano di Woody e prova a liberarsi dei nuovi giocattoli facendoli trasportare nell'inceneritore dal camion della spazzatura. Ma i tre alieni riescono a salvare dalle fiamme i loro amici, azionando una grande pinza che li afferra tutti. Quando i giocattoli tornano a casa, Andy ha un'idea. Li lascerà a Bonnie, una bambina gentile che si prenderà cura di loro, meglio di chiunque altro.